Oltre 13 quintali di materiale esplodenti illecitamente detenuti e pronti per la vendita sono stati sequestrati dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Chieti, un'operazione finalizzata a garantire la pubblica sicurezza con operazioni coordinate insieme alla Prefettura di Chieti e che hanno portato alla scoperta di diversi depositi per lo più improvvisati, in particolare rinvenendo tre attività commerciali nelle zone di Chieti a Tessa gestite da rappresentanti legali di nazionalità cinese che accumulavano per la vendita il materiale pirotecnico, superando il quantitativo di materiale esplosivo consentito dalle disposizioni di settore, violando così le norme di sicurezza. L'operazione è stata svolta per tutelare la salute e l'incolumità pubblica, spiega il comandante provinciale colonnello Michele Iadarola, sottolineando come le operazioni delle fiamme gialle siano finalizzate al contrasto all'illecito commercio a tutela dei consumatori e degli operatori di settore.